Come consuetudine la Croce Rossa italiana di Caltanissetta, diretta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nicolo Piave, si accinge a reclutare nuovi volontari per le sue molteplici attività sul territorio con la campagna In più ci sei tu. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di reclutamento per volontari della Croce Rossa, che avrà inizio il 19 ottobre 2022 denominato Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, rivolto a tutti coloro che hanno compiuto il 14esimo anno di età. Il corso della durata di 26 ore, di cui gran parte in modalità online e in orari serali, oltre il tirocinio pratico, si svilupperà in sette moduli teorico-pratici con lo scopo di fornire nozioni base sulla storia dell'associazione, far comprendere il ruolo del volontario, la sua azione attiva sia locale che nazionale e sensibilizzarlo alla cultura dei valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Al termine del corso, coloro i quali hanno regolarmente frequentato, saranno ammessi agli esami e superati questi al relativo tirocinio. Chiunque fosse interessato può iscriversi compilando il modulo sul sito Divendo un volontario Comitato di Caltanissetta o DV cri.caltanissetta.it ed iscriversi online. La Croce Rossa di Caltanissetta, come ogni anno, attiva i due corsi di formazione. È venuto il momento di attivare il corso per il mese di ottobre, iniziamo giorno 19 qui a Caltanissetta. Il corso sarà interamente online, rivolto a tutti i cittadini che vogliono entrare a fare parte di questa organizzazione internazionale, quindi dai 14 anni a salire, quindi fino anche a 90 anni senza nessun problema. Reclutiamo attraverso la richiesta di un modulo che si trova in segreteria all'Istituto Testa Secca in via della Regione 1, la frequenza di un corso alla durata di 26 ore di primo soccorso, di conoscenza della Croce Rossa, diritto internazionale umanitaria e attività sociali per mettere a disposizione il proprio tempo a favore degli altri.